Eccolo il lupo, che bello! La sorpresa poi la ripresa con il telefonino che ci permette di accendere un flash per illuminare un esemplare di lupo avvistato da triparda da Manuel Santulli mentre partito di buon'ora da casa si stava recando a raccogliere funghi sui monti distanti la cittadina del sabato. Il lupo abbagliato dai pari dell'auto per qualche istante ha rivolto il suo sguardo fiero a chi lo stava filmando, una posa da star per un animale che rappresenta la tenace e la fiarezza della terra e del popolo irpino. Il lupo è stato incrociato da Manuel mentre attraversava via San Giacomo a Contrada Ischia. Di recente sono stati intercettati anche i filmati, altri esemplari sul Partenio e soprattutto nella valle dell'Ofanto, in particolare a Calitri dove venne ripreso il passaggio di quattro lupi. Le immagini del branco proposte da collega Michele Miele attraverso un servizio andato in onda nei tre giornali di Telenostra diventarono subito virali sul web, raccogliendo la simpatia, il rispetto e il benvenuto di tutti per il ritorno in Alta Irpinia del lupo. Una specie in via d'estinzione dagli anni 70 che non sembra di nuovo regalare il fascino del mito tra i sentieri e i boschi della nostra terra. Un segnale benaugurante per una provincia che in tempi difficili si stringe anche al suo simbolo. Un gradito ritorno, commentano gli sportivi, che sperano porti bene anche alla rinascita del lupo bianco-verde. Esultano anche gli ambientalisti perché il lupo, al dispetto delle fiabe dei detti antichi che lo raffigurano come il cattivo della storia, ha un ruolo prezioso nell'ecosistema, un baluardo culturale, anche un volano per il turismo in Irpinia. Il lupo insomma è tornato a ululare, buon segno per l'Irpinia. Ricomincio da Serate all'insegna della comicità, il 29, il 30 e il 31 agosto, Monte Falcione.